È scattato anche nel mare toscano il fermo pesca, provvedimento fondamentale per garantire la ripopolazione della fauna ittica. Nella nostra regione sono 120 pescherecci a strascico che rimarranno in banchina fino al 30 ottobre. Col diretti Impresa Pesca Toscana non contesta il provvedimento necessario per evitare squilibri ambientali, ma la modalità obsoleta. L'attuale assetto organizzativo del fermo pesca, basato principalmente su un tempo di stop della pesca, risale al 1985. Allora accolta come misura d'avanguardia, oggi non lo è più, ricorda Col diretti. Sapendo che esistono altri sistemi di rilevamento e comunicazione dei dati, siamo in possesso di questi dati ed altre tecnologie stanno avanzando, Quando si sa dove sono i pescherecci, dove operano, cosa scaricano, eccetera, secondo noi, ipotizzo una prima ipotesi, ma sono tante quelle in ballo, vuol dire già sappiamo dove gli stock si riproducono, quando si riproducono, per cui basterebbe chiudere totalmente quelle aree, anche alla piccola pesca, non solo allo strascico, ma totalmente, nella fase riproduttiva. L'importante è che nelle altre aree si possa continuare a pescare. Un cambio di passo nel rispetto dell'ambiente sarebbe ancora più urgente adesso, sottolineano, con il comparto in crisi dopo gli anni di Covid e le impennate del gasolio, che negli ultimi tre mesi ha fatto registrare un incremento del più 25% fino a un euro al litro. Per questa cosa la Commissione Europea, quindi l'Europa, ha deciso che il pescatore ha diritto a una compensazione. Purtroppo, da qualche mese, si è passata diversi anni di ritardo. Voi pensate che le compensazioni per il fermo ai pescatori, che non sono state pagate, sono quelle dell'anno 2021 e 2022.